Sono in compagnia del professor Massimo Recalcati, docente universitario e psicanalista, buonasera. Buonasera. E sono Laura Campanello e anche con lui volevamo provare un po' la nostra filo-intervista, questa intervista filosofica, esistenziale, lei si occupa di esistenza, incontra gli esistenti ed è giustamente un essere umano al mondo, quindi mi sembra interessante esplorare da più punti di vista alcune idee relative appunto alla vita. Intanto le chiedo di scegliere tra queste due carte una prima domanda. Ci sono i tuoi maestri di vita? Sì. Ma il termine maestro per me non si può dissociare dagli incontri che ho fatto nella mia formazione a scuola, dalle prime maestre che mi hanno salvato da una deriva molto pericolosa che io già da bambino avevo preso. Già all'elementare. Sì, sono stato, credo, l'ultimo caso nell'Italia del Regno Unito di essere stato bocciato in seconda elementare. Ah, caspita. Quindi avevo preso questa china un po' pericolosa e lì finalmente, dopo aver incontrato maestre sadiche e terrificanti, incontrai due giovani maestre che mi aiutarono ad imparare, ad avere curiosità verso gli oggetti libri. In casa mia non circolavano libri e quindi l'incontro con i libri è stato molto grazie questa maestra e poi da qui in avanti ho avuto la fortuna di avere veri e propri maestri che hanno contribuito molto a dare una forma alla mia vita. Io penso che la forma della nostra vita dipenda molto dagli incontri che abbiamo fatto. Assolutamente. E per me gli incontri decisivi sono o gli incontri con i maestri o gli incontri d'amore. e sono questi due tipi di incontri che hanno generato una formazione, cioè hanno dato forma ad una vita. Certo. E lei ha la sensazione per le persone che incontra anche nella stanza d'analisi o nei suoi contesti che le persone siano alla ricerca di maestri? C'è una mancanza o comunque in qualche modo esperienze e persone rimangono maestri per di più? Intanto gli incontri possono essere buoni o cattivi. Certo. L'incontro cattivo è un incontro che ha l'effetto di chiudere il mondo, di restringere l'orizzonte del mondo, mentre l'incontro buono ha l'effetto contrario di aprire il mondo, non solo di dimostrare che esistono molti mondi, molte lingue, molte possibilità. In questo senso l'incontro vero è sempre un incontro d'amore, perché quando facciamo un incontro d'amore noi facciamo l'incontro con una moltiplicazione dei mondi e in questo senso un maestro è veramente innanzitutto colui che ci dice guarda che il tuo mondo non è l'unica forma del mondo, la tua lingua non è l'unica lingua del mondo, esistono più lingue del mondo, più mondi e il maestro ti porta in queste altre lingue e in questi altri mondi. E quindi forse ti insegna anche a riconoscere le tue plurime lingue e le tue plurime possibilità. Certo, in fondo il lavoro dello psicanalista è esattamente questo, portare a riconoscere la molteplicità delle lingue che innanzitutto ci abitano, la molteplicità dei mondi che ci abitano per renderci più aperti all'incontro appunto delle altre lingue e degli altri mondi. Una domanda in parte collegata a questa, chiamiamola carta, lei crede che lo psicanalista diventi a qualche titolo maestro? C'è un pericolo in questo? Sì, la psicanalisi corre sempre il pericolo dell'indottrinamento, della seduzione, della fascinazione transferale tecnicamente, cioè della dipendenza fondamentalmente, però non c'è psicoanalisi che non corra questo rischio, ma fare esperienza della dipendenza nell'analisi significa anche poter poi fare autentica esperienza dell'indipendenza. L'indipendenza che rifiuta la dipendenza è una forma falsa di indipendenza. Certo, quindi va attraversata la dipendenza? Non solo va attraversata ma anche riconosciuta, anche come dire apprezzata, no? Perché in fondo secondo me una delle definizioni della nevrosi più generale possibile ma importante è l'illusione di fare tutto da sé. L'illusione di fare tutto da sé è veramente uno dei grandi miti del nostro tempo e è un mito che danneggia la soggettività perché non c'è soggetto che non sia in rapporto ad altro, che non sia in relazione all'altro. Noi viviamo nel tempo come Babelico, no? Cioè di farsi un nome da sé. Ma il nostro nome più proprio per esempio ci è stato dato, lo abbiamo ricevuto, non è qualcosa che abbiamo generato da noi stessi. Certo. Scegliamo un'altra carta così esploriamo un'altra dimensione. Qual è il denaro meglio speso? Beh allora per me il denaro meglio speso è quello per i libri e per i viaggi e quello che accomuna i libri e i viaggi sono il fatto che appunto come dicevamo prima noi ogni volta che leggiamo, ogni volta che viaggiamo, anche viaggi importanti che ci portano da altre parti. Quest'estate sono stato in Giappone per esempio. Quindi proprio un altrove. Sì, ci fanno veramente fare esperienza dell'altrove e quindi di, come dire, sono in controtendenza rispetto alla nostra tendenza che è quella della chiusura, no? Del solidificare la nostra identità. Quindi direi, aggiungerei anche cucina. Ama mangiare, ama il cibo, ma ama anche cucinare? No. No, ama mangiare. Sì, ama mangiare, amo molto il vino. Ma per me per esempio aggiungo la cucina perché il libro, il viaggio e la cucina sono tre forme di esperienza euristica, di ricerca, no? E anche fonti di piacere. E anche fonti di piacere, non c'è dubbio. Quindi la dimensione del piacere comunque... Un piacere sensibile, cioè del corpo, ma anche intellettuale, mentale, no? Certo. E se lei, anticipo questa domanda così non la tedio con le carte, dovesse provare a dare una definizione di felicità? La felicità è amare quello che si ha, io penso. Cioè non è cercare quello che non si si ha, ma è pensare che ogni giorno, ogni mio giorno, che io voglio che ogni mio giorno sia lo stesso di questo giorno. Quindi un dire sì al destino un po'. No, no, allo stesso. Cioè, come dire, in effetti, se io ogni giorno mi piace per quello che è e vorrei ripetere questo giorno, come dire, la formula della felicità è poter dire ancora come adesso. Quando uno dice ancora come adesso, beh, è beato. Caspita, però è un punto d'arrivo, no? Semplicissimo. Beh, ma io l'ho trovato in persone molto umili. Mio padre, per esempio, che è un floricoltore, una persona umile che parla in modo sgrammaticato l'italiano, però il suo rapporto con i fiori, con la terra, con il lavoro, io lo vedevo che ogni mattina si svegliava alle cinque, andava a lavorare con la stessa forza, con lo stesso entusiasmo, no? Fare quella stessa cosa che non è mai poi la stessa cosa, perché è veramente nuova. Mentre noi viviamo in un tempo in cui ci suggerisce che il nuovo sia altrove rispetto a quello che facciamo. È vero. E quindi questa ricerca smaniosa sempre di novità o di eccezionalità. Esatto. E poi la novità che noi cerchiamo, al di là di quello che noi facciamo e siamo, si rivela sempre la stessa insoddisfacente, no? Si rivela sempre in modo uguale, insoddisfacente. Il vero nuovo è sempre, secondo me, in una piega dello stesso. È come quando andiamo a bere il cappuccino, no? Gli esseri umani si distinguono, diciamo, tra chi ama il cappuccino e chi ama il caffè. Le ama il cappuccino. Le ama il cappuccino. Sono quelli del cappuccino. Ma ogni mattina il cappuccino è sempre quello, poi io vado sempre nello stesso posto, ma ogni volta è nuovo. Miracolo, eh? Sì. È il miracolo della fedeltà. Quando c'è, per esempio, fedeltà nell'amore. Certo. È sempre lei, sempre la stessa, di cui conosco perfettamente la geografia del corpo, i sentimenti, la voce. Però questa, che è sempre la stessa, nell'amore si rivela sempre nuova. Quindi è un gioco, però, un gioco. In realtà un'attitudine, un'attenzione a come noi guardiamo anche, forse, le cose. Beh, questo è la beatitudine. Per Sant'Agostino amare quello che si ha, la beatitudine. Bene, intanto sono contenta che è emerso anche suo padre, forse anche lui come maestro, nella sua semplicità e nella sua capacità. E nel ringraziarla per questa intervista le chiedo anche alla luce di quello che ci ha regalato e che ci ha raccontato, che augurio farebbe alle persone per poter essere un po' più felice, un po' più serene, un po' più beate. Beh, intanto faccio un augurio al nostro paese di ritrovare un clima, un clima civile di confronto, di rapporto emancipato dall'aggressività, dall'invidia, dal rancore, dalla violenza che mi pare stiano... E anche dalla disperazione che ne deriva. che stanno veramente ingolfando e portando la deriva il nostro paese. Intanto questo. E poi l'augurio che faccio è che ciascuno possa appunto essere felice di quello che ha. Grazie. Mi sembra un augurio molto bello sia quello per il paese di cui abbiamo davvero bisogno, ma anche questo individuale di accorgerci di ciò che abbiamo e esserne felici. Perché giustamente forse davvero questa è una strada. Ringrazio moltissimo Massimo Recalcati e la Laura Campanella. Un saluto.